Non lo so, devo dire che è qualcosa di innato. Fin da quando avevo 13-14 anni sapevo che avrei voluto fare l'allenatrice. Determinata, appassionata e esigente. Mi ispiro a vari allenatori, Ancelotti, Guardiola e Zeman. Mi è stato detto a inizio agosto con una telefonata. Sono tanti, sono tanti. Devo dire la vittoria del primo scudetto con il Brescia, i quarti di Champions con il Brescia e la salvezza con la Reggiana. Il sogno che vorrei realizzare è provare ad andare ai mondiali con la nazionale. Un saluto speciale a tutti i tifosi della nazionale femminile e mi raccomando seguiteci, abbiamo bisogno di voi per realizzare il nostro sogno.